vai box 50 10 5 5 fermo 6 attenzione la testa fa vedere che sta a tela a a a a a a attimo solo devo cambiare la mano ecco 305 ok si potreste anche avere qualche centimetro in più 15 6 a 17 davanti raccomando 7 ok che fai vedere la pancia ho messo 7 non ricordo più ok 10 secondi 3 sotto 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 10, 1, 2, 3, 4, 5, bravo, 1, 2, 3, vai sotto, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, vai giù, 5, ecco l'ultimo uguale, ecco, 1, 2, 3, 4, dai, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5, prima box, 6, 7, vai giù, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 5, bravissimo, 6, 7, 8, dai dai dai, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, no, che fai, che fai, che fai, che fai, dai, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, dai, un minuto, 6, vai, 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 ultimo, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ultimo, dai, 30 secondi, 7, dai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dai, 20 secondi, 2, stendi bene, stendi bene, stendi bene, non fai come me. Guarda, 5, o 6, devo 4. 5 secondi. Good.